Buongiorno a tutti e benvenuti in casa facile e felice. Oggi vediamo come si puliscono le capesante quando sono intere. Avremo bisogno di un coltellino affilato. Con la punta del coltellino cerchiamo di fare un spazio tra le due valve. Dopo infiliamo la lama e tagliamo radente la parte interna della capesanta. Apriamola ed eliminiamo la parte superiore della conchiglia e tutto quello che è intorno alle gonadi, lasciando la parte bianca e la parte corallina, quella arancione, che sono edibili. A presto. 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 preferite. Per queste ed altre preparazioni vi aspettiamo sul nostro sito Casa Facile Felice. Arrivederci alla prossima ricetta!